Sale a 28 il numero delle vittime dell'incidente ferroviario in Canada dove una settimana fa è deragliato un treno che trasportava petrolio. All'appello mancano ancora 22 persone. La polizia teme che il bilancio delle vittime possa aggravarsi nelle prossime ore. Oltre 2000 le persone evacuate dalle loro case all'Hack Megantic.